Perché mi cercavi? Ah, è arrivata stamattina dall'Olanda. È di Gio, la vedova di Theo. Sembrerebbe che Gauchet le abbia spedito la lettera. Ah. È rimasta molto colpita da quello che hai fatto. Pensava dovesse sapere che cosa c'era scritto, quindi l'ha copiata per noi. Dunque ci fa le sue... Dice qualcosa su... Avanti, dalla me. Nella vita di un pittore non è la morte la cosa più difficile. Sai, Theo, non so spiegarti con esattezza il perché. Ma la vista delle stelle mi fa sempre sognare. Come mai, mi chiedo, quei puntini luminosi nel firmamento ci sono inaccessibili? Che sia necessario morire per raggiungere le stelle? E morire in pace e in tarda età vorrebbe dire raggiungerli a piedi. Ora me ne vado a dormire perché si è fatto tardi. Ti auguro buonanotte e buona fortuna. Ti abbraccio, fratello mio. Con affetto, Vincent. Grazie. 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 Grazie.